Buongiorno a tutti, siamo a Oste 2023, siamo in compagnia dell'ingegner Nocera, general manager di La San Marco. Buongiorno. Buongiorno e grazie di essere venuti a trovarci nel nostro stand. Senta, innanzitutto le volevo chiedere le novità aziendali, sappiamo che ce ne sono state molte, di cosa ci vuole parlare in particolare? Sì, il 2023 si è aperto con diverse novità, sicuramente la più importante è l'ingresso della San Marco nella grande famiglia SEB, multinazionale francese, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici. Invece in merito alle novità di prodotto che cosa ci può dire? Quest'anno abbiamo presentato una novità nel mondo delle macchine, in particolare nel mondo delle macchine a leva, proponendo quella che abbiamo battezzato come leva multiboiler aumentata. Aumentata perché? Perché finalmente per la prima volta il barista può controllare, dopo aver visualizzato sui display, e controllare quindi conseguentemente istante per istante il profilo di pressione dell'acqua che viene utilizzata per la percolazione. Il profilo di pressione e poi controllare e programmare, eventualmente ce ne fosse bisogno, il corretto valore della temperatura di estrazione per quella particolare specie botanica di caffè utilizzata o per il suo grado, in relazione al suo grado di tostatura. Perfetto, in merito appunto a queste grandi novità come sono andati questi primi giorni di fiera? Sono andati benissimo e a proposito ancora di novità, la leva aumentata non è l'unica novità, colgo l'occasione per dirti che anche nel mondo dei macchine a caffè abbiamo presentato qui delle grandi novità. La nuova linea di macchine a caffè che è composta da 15 elementi, da 15 modelli diversi, coperti da tre brevetti di invenzione industriale, internazionali e da diversi ritrovati tecnici che sicuramente consentiranno ai baristi di esprimere al meglio tutte le loro competenze.